Abruzzo è taunasia di una regione? Pescara città lo sbando? Due domande a cui verranno date delle precise risposte nel dibattito in programma venerdì 8 maggio nella provincia di Pescara, ovvero nella sala figlia di Orio una tavola rotonda promossa dall'associazione culturale solisti.it, solisti temerari e in collaborazione con il partito socialista il convegno ideato dall'ex vice sindaco di Pescara Carlo Lizza e dall'ex parlamentare Amedeo D'Addario è un modo per dare risposte chiare alla cittadinanza sui problemi della regione e non solo Noi vogliamo richiamare l'attenzione di tutta la classe politica e dirigente, non solo politica ma anche quella imprenditoriale economica e professionale di questa regione di fare massa critica, ma attorno a un progetto di Abruzzo 2009 che parta anche dalla tragedia del terremoto ma che parte anche dalla tragedia e dal disastro petrolifero perché qui non se ne parla ma la metà del territorio di questa regione è trasformata in distretto petrolchimico per decisioni veramente incommendevoli, decisioni assolutamente allucinanti fatti a livello di governo centrale, di centrodestra e di centrosinistra fatti a livello di governo regionale dal 2001 e poi abbiamo una montagna di debiti che dobbiamo sopportare per 50 anni ci è stato detto dobbiamo veramente riflettere e gli interrogativi si sta staccando la spina a questa regione, eutanasia, una morte voluta pescare una città allo sbando, si è andata alle elezioni ma come ne esce? ci apriamo ai cittadini, a tutte le voci che vogliono apportare un contributo non solo di giudizio critico